Domenica 16 dicembre alle ore 15 presso la Sala del Consiglio Comunale ci sarà un importante incontro con una parlamentare europea, Elislein. Noi come Berceto abbiamo tre progetti molto importanti, tre idee chiare, che possono garantire davvero un futuro sereno. Uno è quello di fare tutto il possibile con la partecipazione di tutti i cittadini per essere Berceto Comune Unesco via Francigena, con tutto quello che vuol dire, cioè i servizi migliori, un aumento dei servizi, le strade sistemate, la lotta al dissesto nei boschi, nei prati, nei nostri 131 km quadrati di territorio, il recupero delle tante case pericolanti. L'altro è la Scuola per l'economia della conoscenza, dove all'interno della fornace di ghiare vorremmo insieme alla Regione avere una propria scuola che insegna a utilizzare tutte le grandi risorse del nostro territorio. E poi sempre all'interno della fornace un centro di ricerca libero, di libera ricerca, coinvolgendo anche i 40 Paesi che conoscono già Berceto per il Festival Internazionale dei Giovani per studiare il potenziamento dell'intelligenza artificiale. Sono progetti che devono essere sostenuti dall'Europa e domenica 16 dicembre alle ore 15 presso il Consiglio Comunale illustreremo questi progetti alla parlamentare europea in modo che ci possa sostenere con dei suoi funzionari a presentare i bandi adeguati.